Prima che Cristoforo Colombo scoprisse il cosiddetto Nuovo Mondo e gli europei invadessero il Nord e il Sud America, i continenti erano abitati da tribù indigene. Anche se i nativi del Nord America a volte differivano significativamente in termini di cultura e tradizione, ogni gruppo etnico aveva la sua collezione di miti e leggende che raccontavano di creature quasi incredibili. Ma dove la finzione e la realtà iniziano a fondersi? Qual è il vero sfondo di questi esseri terrificanti che appaiono nelle vecchie storie e forse esistevano davvero? Insieme a te vorremmo dare un'occhiata più da vicino a questo entusiasmante argomento oggi. Ci hai già lasciato un like e ti sei abbonato attivando la campanella? Allora iniziamo! Resta con noi fino alla fine per ascoltare una delle profezie più inquietanti che i nativi americani abbiano mai condiviso. Khan I nativi americani non erano soli. Uno sguardo alle antiche leggende tramandate attraverso le generazioni rivela che il continente una volta era popolato da creature favolose come demoni, fantasmi e nani. Si dice che una delle figure più terrificanti che abbia mai camminato sul suolo americano si chiamasse Ia. Secondo la tradizione dei nativi americani la figura colossale appare sempre quando una violenta tempesta attraversa il paese. Ia poi si propone di divorare gli animali, gli esseri umani e persino tutti gli insediamenti, poiché la fame di questo mostro è praticamente insanziabile. Continuerà a mangiare fino a quando non ci sarà traccia di vita intorno a lui. Ia ha un potere che sembra inimmaginabile per noi comuni mortali. Basta un rapido schiocco di dita per creare bufere di neve, uragani e temporali devastanti. Nel frattempo Ia viaggia sempre nella sua tenda magicamente decorata nell'occhio della tempesta, in modo che possa banchettare con il caos elementare. Tuttavia la domanda su quale forma abbia questa creatura è tutt'altro che facile da rispondere. I vecchi racconti dicono che Ia spesso non ha né una faccia né un corpo. Quando il signore delle tempeste non sta scatenando una brutale tempesta sul mondo, si dice che viva in fondo al mare con sua madre Unk. Tuttavia, come sovrano del nord e pastore dell'aurora boreale, Ia affronta anche un certo numero di nemici, in particolare Okaga, il re del sud. Giganti bianchi Fondamentalmente ogni tribù indiana ha la sua mitologia. Le cose diventano ancora più eccitanti quando diversi gruppi riferiscono in modo indipendente sulle stesse creature, come nel caso dei giganti bianchi. Nel dettaglio si dice che i giganti bianchi siano una razza estinta che ha raggiunto proporzioni inimmaginabili. In contrasto con i giganti che appaiono in altre mitologie, questi colossi non erano brutali e semplici, ma estremamente abili in molti aspetti. A casa, in quello che ora è lo stato del Tennessee, si dice che i giganti bianchi si siano spesso scontrati con i loro contemporanei umani. Con un'altezza tradizionale di oltre tre metri, la nostra specie ha probabilmente sempre perso in una battaglia. Nonostante la loro grande ricchezza e intelligenza, i giganti avevano anche una forte predilezione per la carne delle loro vittime. Nel 1857 il capo indiano Big Thunder riferì che innumerevoli lune fa il regno dei giganti si estendeva su tutto l'orizzonte. Le città del potente popolo dei giganti sarebbero state situate sulle cime delle montagne, dove sorvegliavano il paesaggio come ombre minacciose. Dopo che i giganti erano riusciti a detronare i governanti precedenti, dovevano superare tutti i popoli successivi. Il capo disse agli europei che in seguito si diffusero in Nord America e portarono sofferenze indicibili ai nativi. Rispetto ai giganti bianchi, erano nani sia nella loro cultura che nelle loro armi. La fine dei giganti Tuttavia, dato il potere assoluto che i giganti bianchi possedevano, sorge una domanda fondamentale. Perché oggi non c'è traccia dei colossi? Beh, a questo proposito, i racconti indigeni dicono che i giganti alla fine sono caduti vittime del loro stesso orgoglio. Mentre i giganti bianchi continuavano a lottare per la ricchezza e il controllo, valori come la misericordia e la giustizia, si ritirarono costantemente nelle loro comunità. Così è stato che il grande spirito decise di porre fine alle attività smoderate dei giganti bianchi e di spazzarli via dal mondo. Tutto ciò che rimane oggi dell'esistenza delle tribù sono le misteriose strutture collinari sugli altipiani. La ricerca della verità Ma come possono queste leggende mozzafiato essere collocate in un contesto plausibile? Questa domanda è stata affrontata anche dal ricercatore dottor Donald Panther Yates. Una delle sue pubblicazioni afferma, i comanci riferiscono che i giganti bianchi governavano un territorio gigantesco, sminuendo le altre tribù. Aggressivi e senza paura hanno sviluppato una tecnologia mineraria avanzata. Possedevano anche numerosi schiavi e mantenevano roccaforti in tutto il continente. Originariamente di casa in Perù, i Colossi un giorno migrarono in Nord America in nave, dove terrorizzarono i nativi con i loro teschi massicci e grottescamente distorti. Alla fine, concluse Yates, le gigantesche creature furono spazzate via e restituite ai cieli da cui provenivano. Racconti terrificanti Una cosa è certa, se qualcosa come i giganti bianchi esisteva davvero, sarebbe dovuto essere possibile dimostrare la loro precedente esistenza archeologicamente. E infatti storie su giganteschi scheletri che semplicemente non possono essere classificati in un contesto comprensibile circolano su internet da molto tempo. Già nel 1899, Orazio Bordwell-Cashman scrisse La tradizione di Choctaw racconta di una ragazza gigante che un tempo abitava quello che ora è stato del Tennessee e ha coinvolto gli antenati degli indiani in battaglie sanguinose. Anni dopo molte persone hanno tradotto questo testo per capire il significato semplicemente di persone bianche. Originariamente, tuttavia, questo poteva essere spiegato solo con quei giganti con la faccia bianca radiosa. Da quando i Choctaw hanno riconosciuto l'enorme pericolo rappresentato dai Colossi, si dice che li abbiano attaccati in ogni occasione per ucciderli. Altri 350 anni prima del rapporto di Cushman, Pedro Siesa de Leon ha anche scritto di un potente popolo gigante riportato dagli indiani manta peruviani. Secondo i nativi, i giganti erano a casa sulle coste nel lontano passato. I giganti bianchi navigavano nelle acque a bordo di barche grandi come navi da crociera. Un uomo adulto non sarebbe stato più alto delle ginocchia di queste figure. A questo punto saltiamo in Nevada e diamo un'occhiata al mito inquietante della grotta di Lovelook. Se guardiamo nel dettaglio questa storia sembra che ci possa essere una connessione con la misteriosa tribù dei giganti bianchi. Ad esempio una storia di un gruppo di giganti dai capelli rossi e dalla pelle bianca è stata tramandata dai ranghi delle tribù Paiute per generazioni. Indicati come i Sitte Ka dagli indigeni, i colossi erano viziosi, duri e cannibali e anche se i giganti erano irrimediabilmente in inferiorità numerica rispetto agli indiani, rappresentavano comunque una seria minaccia per loro. In una sanguinosa battaglia gli indiani riuscirono finalmente a respingere i giganti e a forzarli in uno stretto pozzo. Dopo che le creature si sono rintanate nella grotta di Lovelook, i Paiute hanno iniziato ad accumulare foglie secche davanti all'ingresso e a incendiarle. In definitiva si dice che tutti i giganti siano caduti vittima delle fiamme. Fondamentalmente questa storia è classificata dalla maggior parte degli esperti nel regno dei miti e delle leggende immaginarie. Tuttavia, coloro che credono nell'autenticità dei rapporti indicano alcuni reperti inspiegabili precedentemente registrati alla cava di Lovelook. Prove archeologiche Anche se si dice che la battaglia tra i Paiute e i giganti sia avvenuta centinaia di anni fa, non è stato che fino al 1924 che la cava di Lovelook in Nevada è diventata ancora una volta un centro di interesse archeologico. Poco prima alcuni minatori erano entrati nella cava dimenticata per raccogliere il guano del pipistrello. Questa polvere a grana fine, formata durante le intemperie degli escrementi sul terreno calcareo, è stata tradizionalmente utilizzata come fertilizzante. Nel corso del loro raccolto di guano, gli uomini si sono finalmente imbattuti in alcune reliquie inspiegabili, la cui scoperta hanno riferito alle autorità ufficiali poco dopo. L'Università della California non ha esitato e ha organizzato uno scavo professionale nel sito. Tutto sommato, circa 10.000 manufatti sono tornati alla luce. Mentre questi erano per lo più strumenti, armi e oggetti di uso quotidiano, i ricercatori hanno anche trovato 60 mummie. Tra loro c'erano due corpi che erano insolitamente grandi, una donna alta 2 metri e un uomo alto 2 metri e mezzo. Inoltre, proprio come è stato descritto nei vecchi racconti, anche le mummie giganti avevano i capelli rossi infuocati. I critici affermano che il colore dei capelli molto probabilmente è cambiato solo dopo la morte, a causa di processi chimici. Inoltre, le dimensioni del corpo riportate erano semplicemente sbagliate. Supponendo che fosse davvero così, che dire del sandalo di 6 pollici, che è stato recuperato dentro alla cava di Love Look, per rendere l'idea, questo corrisponde approssimativamente a un numero di scarpa 62. Solo gli antenati degli indiani paiute probabilmente sapevano quale fosse la verità riguardo questi reperti e queste vecchie storie, ma sfortunatamente non possono più raccontarcela oggi. Wendigo Questi grandi colossi bianchi non erano gli unici a terrorizzare i nativi americani. Molti nativi hanno anche tramandato leggende di una creatura mitica conosciuta come il Wendigo. La leggenda del Wendigo proviene dalla tribù di lingua algonchina del Nord America, che includono nazioni come il Peacot, il Narragansett e il Wampanoag del New England. È tipicamente descritto come un uomo bestia, cannibale e coperto di ghiaccio. La leggenda del Wendigo appare anche nel folclore delle prime nazioni canadesi degli Oivwe, Chippewa, Patawatomi e Cree. Secondo alcune culture tribali, il Wendigo è un'entità del tutto malvagia simile al Bog Yemen. Altri dicono che la bestia Wendigon è in realtà un essere umano posseduto che è stato rilevato da spiriti maligni come punizione per aver commesso misfatti come l'egoismo, la golosità o il cannibalismo. Una volta che un umano fastidioso viene trasformato in un Wendigo, si può fare poco per salvarlo. Nel folclore dei nativi americani si afferma che il Wendigo vaga nei boschi di notte, nel cuore dell'inverno, cercando la carne umana da divorare e attirando le prede con la sua inquietante capacità di imitare le voci umane. Le sparizioni di membri tribali o di altri abitanti della foresta erano spesso attribuite alle azioni del Wendigo. L'aspetto fisico di questa bestia mostruosa differisce tra le leggende. Il Wendigo è tipicamente raffigurato come una figura alta di 15 piedi con un corpo emaciato e sgargiante che simboleggia il suo famelico appetito per la carne umana. Nel suo libro The Manitoons, l'autore e studioso canadese della First Nation Basil Johnston ha descritto il Wendigo come uno scheletro di gaunt, che emana un odore strano e inquietante di decadimento e decomposizione, di morte e corruzione. Le tribù hanno tramandato le leggende del Wendigo per molti anni. Una delle versioni più famose di questo mito racconta la storia di un mostro, il Wendigo, che fu sconfitto da una bambina che bolliva il sego e lo gettava su tutta la creatura, rendendolo piccolo e suscettibile all'attacco. Mentre la stragrande maggioranza dei presupposti avvistamenti del Wendigo si è verificata tra il 1800 e il 1920, le rivendicazioni dell'uomo mostro mangiatore di carne vengono fuori ancora oggi ogni tanto intorno al territorio dei grandi laghi. Nel 2019 si credeva che il famigerato uomo bestia fosse da abiasimare per i misteriosi ululati che gli escursionisti ascoltavano nella natura selvaggia canadese. Gli studiosi credono che questo mostro dei nativi americani sia una manifestazione dei problemi del mondo reale, come la fame e la violenza. La sua connessione con il possesso di un essere umano peccaminoso può anche simboleggiare il modo in cui queste comunità percepivano certi tabù o comportamenti negativi. Una cosa è certa, questi mostri sono in grado di cambiare il loro aspetto. Ci sono alcune linee che le persone possono attraversare e che possono trasformarle in esseri terribili, come implicano alcuni miti dei nativi americani. Come ha scritto Johnston, trasformarsi in Wendigo può diventare una brutta realtà quando si ricorre alla devastazione di fronte all'avversità. Skinwalkers Gli skinwalkers sono creature umanoidi animalesche raccontate nel folklore secolare di varie tribù nativi americane del sud-ovest degli Stati Uniti, in particolare i popoli Navajo, Pueblo, Apache e Hopi. È una delle tante creature che possono cambiare la loro forma, come racconta il folklore dei nativi americani. Le descrizioni tipiche degli Skinwalker includono i loro corpi bestiali e deformati, i volti rovinati ma umanoidi e gli occhi arancio-rossofuoco, ma le origini di queste creature differiscono tra le culture tribali. Le tradizioni affermano che i potenti uomini di medicina che hanno ceduto al desiderio di usare i loro doni per il male erano conosciuti come Skinwalker. Gli skinwalkers, secondo altre leggende, sono la punizione per qualsiasi uomo, donna o bambino che compie un peccato grave. In ogni caso i gruppi indigeni hanno familiarità con il mito degli skinwalkers. Si dice che queste creature nativi americane siano estremamente forti e quasi eterne. Possono essere uccisi solo con un proiettile o un coltello immerso in cenere bianca, che ricorda un po' un muta forma della cultura popolare, il lupo mannaro e la sua debolezza per i proiettili d'argento. Parlare apertamente di skinwalkers è presumibilmente disapprovato nelle culture indigene. Secondo la cultura navajo, menzionare questi esseri porta a sfortuna e aumenta le probabilità del loro arrivo. Di conseguenza, le persone navajo sono riluttanti a parlare a riguardo degli skinwalkers con gli estranei. Tuttavia, la terrificante leggenda dei nativi americani si diffuse alla popolazione generale. Una storia su una famiglia dello Utah, traumatizzata da eventi agghiaccianti nel loro ranch, tra cui il misterioso massacro del loro bestiame, che è stato scoperto morto con strane mutilazioni, è stata pubblicata nel 1996 su The Desert News. Testimoni oculari affermano di avere visto un animale non identificabile che era incredibilmente agile e faceva rumori infernali. Cose strane persistevano nel ranch dopo che la famiglia si trasferì. La proprietà è ora conosciuta come Skinwalker Ranch ed è un famigerato focolaio di attività paranormali. Da quel momento gli skinwalker sono apparsi più frequentemente nella cultura popolare. Gli eventi terrificanti legati a queste bestie sono raffigurati su The Outsider della HBO, basato sul libro di Stephen King, e indagati in The Secret of Skinwalker Ranch, una serie di documentari su History Channel. È essenziale notare che, nonostante la comprensibile riluttanza del popolo navajo, a discuterne con estranei, la comprensione pubblica di questi mostri nativi americani è ancora insoddisfacente. L'appropriazione indebita di tale tradizione da parte di autori non nativi, che può avere un effetto negativo sulle comunità native, è una ragione di questo, secondo la studiosa nativa Adrienne Keen. Rowling sta scrivendo queste usanze da zero, tradizioni che hanno avuto origini da un contesto specifico, posizione, comprensione e verità, ha scritto Keen in riferimento all'autrice J. Key, l'imbarazzante incorporazione della Rowling nel racconto navajo, in uno spin-off di Harry Potter. Questi sono i cosiddetti maghi fraintesi. Cosa ne pensi? Le numerose storie sono semplicemente leggende fai da te? O è possibile che i giganti esistano davvero? Come sempre facci sapere i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback sul video di oggi nei commenti qui sotto. E già che ci sei, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti per rimanere sempre aggiornato. Con questo, grazie per averci guardato, buona serata e ci vediamo la prossima volta. Grazie.